Cristiano Malgioglio Il paroliere ha avuto modo di tornare a parlare della sua avventura, cercando di spiegare le emozioni provate in questi circa tre mesi. Tra le tante cose raccontate, l'ex Geffino ha voluto svelare la sua verità riguardo alla vicenda dell'armadio di Cecilia e Ignazio. Cristiano è stanco di sentire così tante bugie sul conto della coppia, tant'è che ha voluto chiarire una volta per tutta cosa è realmente accaduto, cercando di difendere nel migliore dei modi la roteguezza Moser. Mattino 5, Cristiano Malgioglio Fatto pace con delle ingrazie a Cecilia Cristiano Malgioglio è stato intransigente e ha ribadito a gran voce la sua verità riguardo alla tanto chiacchierata storia dell'armadio. La situazione di Cecilia e Ignazio, io stavo preparando la pizza. Loro a un certo punto hanno detto andiamoci a nascondere, io li cerco, non potevo immaginarmi dentro l'armadio, se tu pensi, in 48 secondi cosa potevano fare, era uno scherzo con me? Il paroliere ha anche voluto ribadire la sua opinione nei confronti dell'Argentina e non solo. Cecilia è una ragazza stupenda, meravigliosa, pensa che grazie a Cecilia ho fatto anche pace con Belena, lei ha fatto questo post in cui gli ha chiesto scusa, sono pazzo anche di Ieremias. Grande fratello Vip, Cristiano Malgioglio, parole speciali per Luca Onestini insomma, Malgioglio è felicissimo di aver avuto modo di conoscere determinate persone all'interno della casa più spiata d'Italia, a quanto pare, l'uomo è rimasto piacevolmente colpito anche da Luca Onestini, una cosa molto bella, questo ragazzo pur avendo 24 anni, parlavamo di tutto. Lui assimilava tutto, stava zitto e ascoltava, era l'unico che voleva sapere le cose del passato, Luca è stato per me una sorpresa bellissima. Riguardo alla lite con Fredolina, invece, l'opinionista non ha niente da dire, per lui la questione è chiusa e a NBSP. Grazie a tutti.